Vi auguro una serena notte. Il messaggio di questa sera è purificazione dei chakra. Arcangelo Metatron, invocami per purificare e aprire i tuoi chakra usando forme della geometria sacra. Metatron usa le forme della geometria sacra per purificare e allineare i centri energetici del chakra nel nostro corpo. Chiedi mentalmente a Metatron di aprire i tuoi chakra e lui ti invierà gentilmente il cubo di Metatron, la forma raffigurata nell'illustrazione della carta, attraverso il chakra della corona che si trova in cima alla testa. Roteando e scendendo verso il basso, il cubo eliminerà le tossine psichiche del tuo corpo e dei tuoi chakra. Quando i tuoi chakra saranno puliti, ti sentirai più energico e avrai un intuito più affinato. Collabora con l'arcangelo Metatron. L'aura di Metatron è di un bellissimo color violetto, con venature verdi come la spuma del mare. Il cristallo allineato con l'energia di Metatron è la tormalina anguria. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte.